Il governo, ma tutte le istituzioni, sono impegnate naturalmente nel capire le cause, nel comprendere cosa è accaduto. Ma sono anche impegnate nella vicinanza alle famiglie di chi ha perso la vita, in particolare di questo bambino che come sapete è ricoverato all'ospedale di Torino e che è stato operato, è in prognosi riservata e che è stato già raggiunto da uno dei familiari in maniera tale da assicurare una qualche assistenza. L'assistenza ai familiari in questo momento è un elemento cruciale. Ci sono diversi aspetti di questa vicenda che chiaramente verranno chiariti. Il Ministero già ieri sera ha istituito una commissione che si aggiunge a quelle competenti alle indagini della magistratura. Ecco, è importante che, come già abbiamo visto, tutti mettano a disposizione la documentazione, ma soprattutto che ci sia uno spirito di collaborazione anche nelle fasi successive. Grazie a tutti.